Oggi l'assessore Donazzan cercheremo di far capire qual è oggi il limite di questa norma che ormai è datata, un limite che nei nostri corsi di formazione e anche ai nostri addetti vengono ripetute, esempio norme di PCR, leggi, numeri che non ci servono. A noi servono momenti di continuo confronto su quelli che sono i temi della sicurezza, creare quel sentimento di sicurezza fra tutti i nostri dipendenti. Meno burocrazia e più praticità è l'appello degli artigiani alla Regione Veneto per quanto riguarda i corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dimostrare loro con video, dimostrare loro con tutta una serie di situazioni qual è la situazione di emergenza a cui è capitato, qual è stata la situazione con cui si è procurato quell'incidente. Continuare a puntare sulla formazione e la parola d'ordine anche per l'assessore regionale Donazzan che poi puntualizza. Quello che però non deve essere è che la formazione sia solo la legge, il rispetto della legge e la burocrazia, perché poi quello imbriglia. È molto meglio continuare a fare iniziative come queste, in ciascuna azienda continuare a fare formazione. È con questo obiettivo che arriva il progetto Virtual Reality for Safety Training, realizzato da Confartigianato, imprese marca trevigiana, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Treviso e il contributo di un pool multidisciplinare di esperti. Si tratta del primo strumento a livello nazionale che riproduce in modo autentico il luogo di lavoro ed è stato studiato per consentire una raccolta dati basata sulle scelte che i vari giocatori effettueranno durante le sessioni al fine di consentire analisi qualitative e quantitative del comportamento e l'apprendimento. Questi simulatori servono veramente per immaginare tutti gli scenari, non c'è solo la teoria, anzi, devo dire che si impara di più facendo pratica. Prevenzione che passa attraverso i lavoratori di domani, presenti infatti all'incontro di Asolo anche gli studenti di diversi istituti della marca che hanno potuto sperimentare la simulazione. Noi, tempo addietro, abbiamo fatto anche dei progetti con i ragazzi, proprio ragazzi di scuola media superiore, perché sono loro il nostro futuro, e quindi è fondamentale far capire i concetti della cultura della sicurezza all'interno degli ambienti scolastici.